Ma sicuramente non abbiamo dei dati confortanti, anzi abbiamo dei dati che destano oltre che perplessità stupore e meraviglia e questo stupore è dato al fatto che ci rendiamo conto dei nostri studi che soprattutto le ragazze giovani che ogni giorno sono collegate con i social e con quanto altro adesso nell'era moderna abbiamo ai fini della comunicazione purtroppo sono pochissimo informate su quali sono i metodi contraccettivi ma ancora prima dei metodi contraccettivi sull'anatomia degli organi genitali sia maschile che femminile, sia uomini, sia ragazzi che ragazze. Allora in questo il nostro aiuto è ancora più importante, abbiamo un sito che è dedicato proprio alla informazione a cui tutte le ragazze si possono collegare e dove troveranno delle risposte che siano delle risposte con una base di scientificità.